Come riconoscere la rabbia? Un sentimento che tutti abbiamo provato e proviamo quotidianamente. Quindi abbiamo con noi la nostra naturopata Barbara Parrinia, la quale vogliamo chiedere come riconoscerla, come gestirla ed eventualmente anche come poter reagire in un certo modo. Perché poi quando la rabbia ci porta dei malesseri allucinanti. Assolutamente sì, soprattutto se è repressa e non la esprimiamo subito nel momento. La rabbia è un'emozione che non è mai negativa, è un'emozione che ci fa capire in quel momento ciò di cui abbiamo bisogno e ciò che crea danno. Infatti quando noi ci arrabbiamo è un modo per difenderci a una sopraffaccia, cioè quando ci sentiamo sopraffacci. E allora cosa accade? L'immagine dice tutto. Ci sentiamo stringere i denti, ci sentiamo calore nel volto fino a farci ribollire il sangue. E sentiamo qualcosa sullo stomaco che vuole esplodere. Immaginiamo una pentola a pressione che sta per scoppiare. Cosa accade? Che quando scoppiamo poi, scoppiamo in modo incontrollato e spesso non ci piacciamo in quel momento. Perché viene fuori, come si dice, e lo vediamo come un mostro che esce ed esprimiamo delle parole, dei concetti che magari alla fine di quell'espressione non ne siamo felici, non ne siamo contenti e subentra un po' il senso di colpa. Quindi non è un modo costruttivo per relazionarsi in quel momento. Io mi sento sopraffatto e scoppio, perdo il controllo. Il coperchio della pentola a pressione si solleva. La rabbia invece è sana quando è costruttiva, quando io sono nella calma, sento le mie parole che escono dalla bocca. Il mio corpo non ho quel battito cardiaco che esplode, non ho quel controllo delle mie reazioni, ho quel controllo delle mie reazioni fisiche. E come faccio a capire quando sana? Che alla fine del dialogo io mi sento semplicemente sollevato, ho l'opportunità di conoscere la persona che ho di fronte, vedendola con occhi diversi, e mi dà l'opportunità e anche il piacere di starle accanto. Questa è una rabbia costruttiva, che comunque è, la rabbia è quel sentimento che ci permette di conoscerci meglio, di capire, di essere più vicino al nostro essere, alla nostra unicità. Cosa succede? Che spesso viene repressa, o per un buon tono perché non si può, o perché sono nell'ambiente di lavoro. Anche per livello caratteriale, ci sono persone che a livello caratteriale somatizzano, dicono che non riescono. Sommatizzano e non riescono. Hanno difficoltà per timidezza o per, come ho detto, una serie di sabotaggi emotivi, che noi ci creiamo, no? Dei sabotaggi in quella situazione che non ci permette di esprimerci, di tirare fuori, tirare fuori il rospo, non so se abbiamo sì. Il rospo che è qua, o quella cosa che non digerisco nello stomaco, o qualcosa che mi irrita sulla pelle. E cosa accade? Quando non è repressa, è comunque un'energia molto forte, molto, già la pentola pressione ce lo fa ricordare, e rimane questo fuoco dentro. E questo fuoco, se non è espresso, porta e predispone la persona a quelle che sono le malattie psicosomatiche. E a volte ci rivolgiamo a rimedi naturali, psicofarmaci, ma non risolviamo definitivamente quella dinamica che vogliamo cambiare il nostro, bisogna cambiare l'atteggiamento nei confronti della rabbia. Come possiamo intervenire? Semplicemente andando incontro alla calma. Ma la calma a volte, calma che vuole dire sfogo, e spesso ci sfoghiamo con l'amico, ci sfoghiamo con i familiari, con il compagno di lavoro, ma non è sufficiente, perché solo sfogarsi, non è che in quel modo siamo sempre sul piano mentale, non riusciamo... No, anche, appunto, la alimentiamo, la radichiamo, la manteniamo, anzi, magari ribolle ancora di più il sangue. Quindi il modo più costruttivo è di parlarne con la calma, e ci sono delle tecniche in naturopatia, come nello yoga, che aiutano tantissimo. Quelle tecniche che la meditazione immaginativa, che ti permette magari di immaginare in quel momento una figura, che può essere un animale, può essere un'immagine della natura, dove io posso, immaginando, piano piano tirar fuori quel senso di... a volte che la collera, che non riesprimiamo, si trasforma in risentimento e rancore, fino a creare un'insoddisfazione, che è proprio un vero e proprio veleno. No, è un veleno. È un veleno. È un veleno che ti avvelena la vita, eh, perché ci sono persone... Sì, sì, e lì bisogna chiedere di aiuto, a chiedere aiuto. Perché? Perché si trasforma in gastrite. Infatti ho un'immagine dove vi fa vedere. Sì, è una cosa più vicina a noi di quanto si possa immaginare. No, eccola, andiamo, ora arriva, eccola qua. Ecco, si parla di gastrite, quindi mi brucia, come dicevo prima, mi arde dentro il sangue. Ed è come possiamo, ritorniamo a come uscirne fuori. Se ne esce fuori attraverso tutte quelle tecniche che ci possono calmare, dal massaggio psicosomatico che aiuta a sentire la parte, in questo contesto, malata. Perché? Quello che spesso noi non crediamo è che se l'emozione ha delle reazioni fisiche, entra con una reazione fisica, allo stesso tempo attraverso il fisico io posso calmarla. Sì. Eh, è questo che bisogna metterci dentro. Non è facile a volte entrare in questi meccanismi. No, non è facile perché, cos'è, l'essere umano vuole il risultato subito, immediato. Non è così. Ma non è così. Però attraverso il fisico, quindi attraverso il riconoscere dove io percepisco la mia rabbia, dove somatizzo, io piano piano, piano piano, riesco a calmarmi e in quel calmarmi cominciano a fuoriuscire le parole, le parole con la calma, l'espressione, aumenta l'autostima. Magari rimaniamo, non è che è risolutiva al cento, come si dice? No, ma impariamo a gestirla. Ma impariamo a gestirla, non deve essere che la mattina mi svegli arrabbiato e vada a letto arrabbiato fino a non dormire. Cioè, impariamo a gestirla quella rabbia. Ma che ci deve essere? Perché è una sorta di cartello stradale che ci permette dove andare, cosa fare. e oltre questo si può lavorare anche con la rabbia attraverso sport che ci permettono anche di sfogarla in modo fisico. Sì, pensi anche ai ragazzi giovani con la box. Con la box, con una camminata magari senza meta che mi aiuta a dare fiducia in me stesso. Un altro modo fondamentale è anche quello di lavorare con la respirazione e qui ritorna, la respirazione ci aiuta a calmare il sistema nervoso e a avere quell'autocontrollo sano ed è importante. Non quell'autocontrollo che non dico niente per creare una pace apparente. No, no, no. Perché dopo lì siamo di nuovo sull'insoddisfazione. di imparare a gestire la rabbia e lo possiamo fare basta volerlo. Io ringrazio la nostra Barbara Parrini, naturopata.